No, ma adesso non è che la cosa si può. C'è qualcuno che si è iscritto che non conosco. Ma non preoccuparti, va bene, è normale, anzi, sono persone che si attivano magari la prima volta, va benissimo. Sai quanti non sono entrati? No, c'è questo rischio. Sai quanta gente ha cominciato ad attivarsi in occasione del discorso rappresentante di rischio? Ah, non l'ho visto. Dai, davanti al palazzo dove c'è il palazzo. Ok, però a queste non... Ma di mattina, basta, almeno non gli rispondi. E poi chi è che passa i dati al presidente? Lo fai tu o... Il senso è il presidente. Le credenziali, chi è che le passa? Ok, allora per Milano le diamo all'ufficio elettorale, quindi arriva al seggio insieme alla documentazione del seggio. Ma chi è che le l'amata? Io. Noi tu. Mila euro che non fai un cazzo con le 6 metri perché sono state trombate dalla parte, capisci? Se no non si cambia niente. Ma anche... Il senso è il senso è il senso. Il senso è il senso è il senso. Il senso è il senso e il senso è il senso. il cavallo, il cavallo di branco, i loro leader lo fanno 5 anni, maschio e femmina, perché c'è dopo già la vecchia, i vecchi, che gli dicono vai fuori dalle palle, perché adesso siamo noi, non bisogna, è uguale in politica, una volta che hai fatto il tuo mandato, hai fatto bene, hai fatto male, io faccio un esempio, padre e figlio, io ti insegno, faccio 5 anni, e e e e e e Grazie a tutti.